Pronto musica un'allegria chi è? Sono la Teresa Teresa buongiorno cosa mi dici? Ciao Ciao Tere Ma non mi fai parlare mai una volta in diretta? Eh sei in diretta Teresa Ah sono in diretta Sì sì adesso sei in diretta Però voglio sentire che qualche volta posso fare una dedica Magari che mi sentino parlare anche a me Eh ti sentono ti sentono sei in diretta con noi Ecco ma tu stai parlando per un'altra No no io sto parlando con te Teresa Stai parlando con me Mi metto la Patrizia dai Tante per cambiare Mi metto la Patrizia e la canzone Amore Amore di Patrizia va bene Però fammi parlare anche me in diretta qualche volta Ma sei in diretta Ti sento una canzone se mi fai parlare in diretta Sì ma ti stanno sentendo tutti cantami la canzone Eh perché adesso mi avevo detto io sono malata Allora Sì Perché devi avere qualche cosa che mi dira un mosso di forza Certo Poi io c'ho quanti anni Ok però adesso sei in diretta con il nostro pubblico Se vuoi cantare una canzone cantala Devo cantare una canzone? No devi Ma hai detto ti canto una canzone Cantami sta canzone Ma che canzone devo cantare? Non lo so ma l'hai detto tu Mi piacerebbe cantare una canzone Eh non so ma si sente per Eh? Si sente che parla Tu stai parlando anche per un altro No no io sto parlando con te No no ma scusa se ti rispondo vuol dire che parlo con te no? Ma io volevo parlare solo io no perché ce n'è un altro in due Solo io che parlavo che è come fanno gli altri Esatto tu adesso ci sei tu e io e basta Che è il pubblico che ti sta sentendo a casa Eh Eh quindi Adesso perché sono un po' Sono un po' Non bello ma sento di sento io Va bene stai tranquilla Magari me la canti Me la canti un'altra volta va bene? Me la canti un'altra volta Perché c'è un'altra signora In diretta che sta parlando Sta male cantiamo in due C'è un'altra signora che sta parlando in diretta? Si tu stai parlando con un'altra signora Io la senti Ma l'altra signora Non sono io L'altra signora sei te Io sto parlando con te No c'è un'altra signora che parla Ah c'è un'altra signora Va bene allora quando poi l'altra signora non parla più ci risentiamo va bene? Va bene Ciao grazie Grazie a te Grazie Maurizio Ciao ciao grazie Alla prossima volta ti diciamo che ti canta la canta Io ci sono C'ho molti testo in bo Eh quando ci sei solo te allora ci sentiamo Va bene? Va bene Ciao grazie Ciao grazie Buona giornata Ciao 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 E poi dite E' così Quanta Povero Mauro E' così